Sono stato contentissimo quando ho ricevuto la chiamata del direttore sensibile, c'è stato subito un certo feeling, lo ringrazio per avermi dato fiducia, come ringrazio il mister e la società per essere qui. L'obiettivo sicuramente è quello di salvarci il prima possibile perché nel calcio tutto si azzera, come tutti sappiamo non conta niente quello che è stato fatto e si riparte ogni anno, quindi avremmo il compito di portare a casa prima la salvezza e poi pensare a partita dopo partita per divertirci perché nella Serie B è importante avere l'equilibrio. Come dicevo prima ci vuole equilibrio in questo campionato perché in una giornata ti senti sulla luna e l'altra sempre spacciato, quindi è un campionato molto difficile dove bisogna prendere ogni partita anche con la squadra che sembra più debole il massimo impegno perché non ci si può permettere di sottoluotare niente a nessuno. Ho tanta voglia di continuare a imparare e continuare a crescere come lo vengo facendo e spero di fare bene per questa società. Ho avuto l'opportunità di giocare un paio di partita in questo campionato di Serie B, un campionato molto difficile dove ti trovi squadre forti, ma noi dobbiamo essere bravi ad andare in campo e sempre dare il massimo di noi stessi per così portare a casa sempre il meglio risultato. Non mi piace dire come sono, siete voi quelli che mi vedete giocare e siete voi quelli a giudicare. Io solo voglio dire che darò sempre il massimo di me stesso e che ogni volta che mi toccherà scendere in campo darò tutto il massimo. Ho conosciuto il direttore, ho conosciuto il mister, mi hanno fatto una bella idea, mi hanno accolto tanto bene qua e sono contento di aver preso questa scelta di poter venire qua e spero facciamo un bel campionato. Un saluto a tutti e vi aspettiamo ogni sabato per venire a tifare questa bellissima squadra.